Un escalation di violenza fa alzare la soglia dell'emergenza sicurezza anno c'era inferiore. Dai fatti di sabato sera al grave episodio di questa mattina, quando in pieno centro un'auto ha forzato un controllo dei carabinieri tentando di investire i militari di servizio. L'oltraggio a pubblici ufficiali nella fattispecie militari dell'arma è estremamente grave e si aggiunge a situazioni simili che si sarebbero verificate nella tarda serata di sabato, quando a controllare la Movida erano in strada agenti e carabinieri anche in Borghese. Intorno alla mezzanotte fascinorosi in diversi punti della città hanno dato in escandescenza, dapprima in piazza del Corso, poi al solito incrocio tra via Garibaldi, il Corso Vittorio Emanuele e fino anche nell'area di via Canale. Tra fumi dell'alcol e sostanze stupefacenti un gruppo di ventenni malintenzionati avrebbe avvicinato con fare minaccioso alcuni automobilisti che avevano parcheggiato le auto all'interno dello spazio di via Canale, chiedendo soldi, strattonandoli e minacciandoli. Poco dopo i quattro balordi sarebbero saliti a bordo di una jeep di colore bianco e da retromarcia avrebbero seminato il panico tra le auto di passaggio su via Canale. Tutto questo dal racconto alla nostra redazione di alcune delle vittime delle scene di ordinaria violenza. Consimatesi sabato hanno c'era inferiore per le strade della Movida che non fanno più stare tranquilli i cittadini, vittime di una Movida ormai fuori controllo. A fare le spese delle invettive e degli atteggiamenti prevaricatori anche padri e madri di famiglia che di solito attendono i figli per il ritorno a casa proprio al ridosso del centro cittadino. A questo si aggiunge anche l'episodio verificato si venerdì mattina in via d'Alessandro quando un pirata della strada ha travolto un giovane studente che si stava recando a scuola, fuggendo via senza soccorrerlo. Sull'episodio sono in corso indagini delle forze dell'ordine attraverso anche l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Ma gravissimo resta l'episodio di questa mattina. In orario di punta, in pieno centro, davanti alla caserma dei carabinieri, il tentativo di investire militare in servizio e speronare un'altra vettura dei carabinieri lascia senza parole e sotto shock la città che non si sente più sicura. Al prefetto di Salerno si chiede a questo punto di intervenire per ripristinare la legalità. Nocera non può divenire terra di nessuno. Il sabato sera vere e proprie squadiglie giungono dai paesi limitrofi e dall'Interland napoletano seminando terrore e paura. Un'escalation che va fermata ad ogni costo.